Volete che torni al governo questa sinistra che rinconterrebbe Giovedo Vici? Volete una sinistra che raccoglierebbe le tasse sui vostri risparmi e sui compiuti? Volete una sinistra che metterebbe un imposto patrimoniale su tutto, anche sugli immobili più piccoli? No! Volete una sinistra che proibirebbe addirittura i pagamenti incontanti, al massimo li consentirebbe fino a 100 euro e questo farebbe per la felicità delle banche? No! Volete lo Stato di Polizia Tributaria che verrebbe fuori da questa situazione e che è lo Stato che vuole la sinistra? No! Volete che la sinistra metta ancora le mani nelle vostre tasche? No! No! Volete le intercettazioni a tappeto su tutto e su tutti? Cioè volete essere spiati anche a casa vostra? No! No! Volete una sinistra che spalancherebbe le porte agli estracomunitari? No! Volete una sinistra che utilizzi la giustizia a fini di lotta politica? No! E ancora, volete le risse e i pollai sulle reti tv pagate con i nostri segni? No! No! Volete che in tv si facciano i processi farsa a chi non può difendersi? No! Mi sembra che abbiamo studiato bene! No! 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 No!